Forse mi sa che era un po' troppo vicino Siamo sempre qui Sempre a casa mia, sempre al terrazzo In una splendida giornata di sole E credo che è arrivato il momento Di dirci adios Eh sì, insomma Anche questi video sono come Il ciclopuente Sottemporanei Sono a scadenza Sì, insomma, riassumiamo Il ciclopuente Arriva dopo Spesso una relazione importante Che cosa fa? Ci traghetta verso un'altra relazione È una relazione temporanea La maggior parte delle volte Il ciclopuente e la ciclopuente non lo sanno E le rare volte che lo sanno Sono delle gran botte di culo Insomma Entrambi acconsentono a Lasciarsi andare Per qualche mese In sostanza poi il ciclopuente è Un surrogato di un fidanzato Allevia le nostre pene Noi siamo contenti Noi siamo contenti Felici Per un po' E aspettiamo che il nostro cuore Si rigeneri Quindi insomma Il ciclopuente possiamo essere tutti Possiamo essere vittima E carnefice Quindi ricorda Che il ciclopuente Potresti essere tu O magari lo sai già Un abbraccio Un beso E hasta la próxima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti No.